Ciao ragazzi, oggi andremo a parlare con le persone ancora una volta e vedremo come reagiranno quando scopriranno che quello che sto dicendo è tutta una fesseria, quanto tempo ci impiegheranno a capire che cosa stiamo dicendo. No, no, non importa, non importa. Comunicare e interagire idee, interagire cose, interagire cose, e, e, per esempio, inglese, per esempio. Come pensate di crisi, di banci? Non puoi cambiare l'impianto. E io potrei vedere le piacere che si chiama in alto strada. Non puoi cambiare l'impianto. E cosa pensi di questa frase? Il piacere va così tanto, che si trova il suo ruolo. Il piacere, vuoi dire come in baseball? Sì, in baseball. All right, il piacere va così tanto, che si trova il suo ruolo. È un ruolo? Non ho capito che ho capito. Sì, è un po' di dire un esempio. Hai mai sentito questo? Non ho mai sentito questa frase. È un po' di dire che si trova il suo ruolo. Oh, vuoi dire che vuoi fare qualcosa? Sì, vuoi fare molto, magari. Oh, sì. All right, quindi magari sei troppo lontano? Sì. Ok. È una buona expressione. Non ho capito. Io ho capito. Tu sempre vuoi più e 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 più. E le persone dicono, ok, è abbastanza. È abbastanza. Tu devi restare. Tu devi restare. È abbastanza. 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 Allogo. Sì, è molto più facile, se fiume. Sì, credo che non possiamo aspettare per Gesù Christ per cercare alcune problemi. Quali pensi di questo? Posso avere una piaccia? C'è una piaccia di piaccia? C'è una piaccia di globalizzazione. C'è una piaccia di rumaniano, e in un'easter cake. C'è un aperto di piaccia di breakfast. C'è una piaccia di piaccia di miei pece di pesca? C'è un remembermento di globalizzazione di rumai. quindi una piaccia di rumaniano. C'è un'raicola molto grande, so. C'è undomè, c'è unブlè! C'è una piaccia di c'è? C'è un'if mina? Si, c'è una piaccia di c'è un buon. C'è una piaccia di c'è una piaccia di rumaniano? C'è un problema. C'è un problema. per tutti. E cosa pensi? Sì, cosa pensi di questo? Non ho capito, non ho capito. Sì, ho capito. Non ho capito. Sì, ho capito. La foto si fa tanto, che si trova l'impianto? Non ho capito. Sì, ho capito. È diverso. Non ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Non ho capito. No, no. For example, if I go to take away, I don't have to take too much pizza. Catching a bit, brother. What do you think about the problem of obesity here in the UK? Obesity in the UK, you cannot change the levels. I think it's quite shocking. I mean, not shocking, but I actually live in France. So, everywhere in Soho, if you're wearing enough glitter, it's true that it's something you see more than other countries in Europe, I think. Yeah. And what concept inside? Yeah. What do you think about this sentence? Which is amazing in his hand. Which means that you don't have to take too much. Yes, yes, yes. Which is amazing. Yes, a little bit in his hand. Um... 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 You know, It's like... Um... What do you think about economy and problem of globalization today in UK? in UK? I don't really know what globalization is. Really? Ok. And what do you think about this sentence? The picture goes so much that it leaves the hand up. It's 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 the hand up. Deep concept inside. It's like when you want too much but you take two efforts and at the end you don't get so much that you thought. Can you understand that? It's like when you want to go to the bicycle but the bicycle is too expensive. You risk to to collapse to fall on the floor. Sometimes the ground is very hard and you can risk to hurt your knees. That's the problem. Understand? Yeah. Yeah. What do you think about the economy and problem of communication and globalization today? This is very difficult. And Europe-less. And Europe-less. And Europe-less. Or in Europe? It seems to be getting slightly better. Really? There are some quite major problems. Unemployment. Or that's getting better. It's been worse but it's not exactly great at the moment. And what do you think about this sentence? The picture goes so much that it leaves its handle. Have you ever heard it? No. No, I haven't heard it actually. No. Is there something about maybe swinging and then you swing so hard that it flies off? Yeah. Do you know what is the deepest meaning? Maybe it's that you're trying so hard you're putting so much effort in that you're actually breaking what you're trying to do? That's right. Great. This is the problem. The real problem. Because sometimes, it's also actually when you spread marmalade on the bread in the morning, you can understand. The problem is the marmalade. Maybe it's when you wake up in the morning, you think too much. Maybe you have to understand also the weather or some kind of feeling that you have every day. I mean you, but everybody. Because I'm from Italy and there are so many, many problems like this. And we try to understand that kind of reaction between people. You know? Okay, okay. Thank you very much. Thank you. So, what do you think about... Everywhere at Soho, if you're wearing enough glitter, you cannot change a leopard's body. Oh, boy, no, shut up! Hey! Bunch! Hey! Come on, let's go. Come on the way back. There's no one. We'll have to go. Oh, boy. Oh, boy. Take it off! Okay, if you're wearing a mask... Grazie a tutti.